Cade un generoso Chieti contro un ottimo Fiuggi, 0-2 pesante, maturato nel finale, con merito indiscutibile. La nostra dedica, non certo per il risultato, ma per la gran fede neroverde, va a Luca, il prof vicepreside d'oro dell'ITIS e l'Ipsia Chieti, e a Valerio, che in foto tanto ha immortalato della storia teatina. Poi la curva, voce senza pause, anche a fine gara, col fardello di un passivo che ci sta tutto. Gran cuore del Chieti nel primo tempo, ma i tentativi di Donatangelo al quarto, di Pietrantonio al diciottesimo, di Fabrizia al ventunesimo e di Akamadu al ventiquattresimo hanno il marchio, in modalità diverse, della sterilità. Un Chieti comunque apprezzabile, il pubblico approva e ha più riprese, ma si capisce che i laziali hanno più qualità. Allo scadere Fall dà un primo segnale di forza. Atletico Termo è organizzato e con spessore in ogni reparto e in avvio di secondo tempo, la gara ha un solo indirizzo. Il Chieti ci prova, ma lascia praterie, savane e deserti in ampia libertà. Ecco i rossi ospiti allora. Al quarto, pazzesco palo interno di potenza, di nome di fatto. Al quinto, Fall minaccia con un traversone. Al settimo si ripete con un tiro sventato da Fusco. Quattordicesimo a volo di nuovo potenza alla Lautaro, dà applausi ma alto. Risposta Chieti al diciottesimo, Salvatore su punizione. Mezzo brivido si fa perdire visti 30 gradi. Poi, Baldè ci prova inutilmente di forza. Chieti redivivo, ma a segnare al trentaduesimo. Fortunosamente Gallinari, deviazione che beffa Fusco. 1-0. E appena quattro minuti dopo, lo splendido raddoppio di Fall che fa tutto da solo. Reazione povera di un Chieti privo pure del faro Viscovic. Al quarantacinquesimo, solo per la cronaca, Chiacchia evita un 3-0 che sarebbe francamente stato comunque eccessivo. Mister Romandini, meglio Totti o il suo Fiuggi? No, sicuramente il mio Fiuggi, nel senso che è il presente. Oggi abbiamo disputato un'ottima gara contro una gran bella squadra che ci ha messo in difficoltà. Devo fare i complimenti alla squadra, all'allenatore. Per quanto riguarda noi, abbiamo cercato all'inizio di studiare un po' l'avversario, poi dopo, magari con le nostre dinamiche, con i nostri flussi di gioco, abbiamo creato più di qualche pallagol, soprattutto nel finale. L'ultima domanda, obiettivo, promozione? L'obiettivo è arrivare più in alto possibile. Non ci nascondiamo che siamo una squadra strutturata per cercare di stare nelle posizioni alte. Alessandro Lucarelli, niente da eccepire sul risultato finale se non nelle proporzioni, però il Fiuggi ha meritato di vincere. Grande squadra. Sì, penso di sì, perché negli ultimi, secondo me, dal decimo del secondo tempo hanno meritato. Nel primo tempo, secondo me, la partita è stata più equilibrata. Nei primi dieci minuti forse noi eravamo anche ripartiti meglio. Avete giocato anche con bella personalità la prima mezz'ora. Sì, però oggettivamente bisogna essere onesti. Dal decimo minuto in poi loro hanno cominciato ad avere delle occasioni e noi piano piano abbiamo preso un po' più di paura, secondo me, e poi è arrivato il gol, perché quando hai paura di solito lo prendi il gol. E poi c'è stato un altro piccolo calo di tensione che ci ha fatto prendere il secondo e poi la partita lì è finita, perché era un momento in cui chi faceva gol vinceva, secondo me. Loro l'hanno fatto, però devo dire che hanno meritato, quindi nel secondo tempo soprattutto. Hai avuto modo di pensare un attimo della partita, accontentiamoci del pareggio. Può succedere, sarebbe stato utile. Ma no, perché alla fine i ragazzi avevano preso gol in uscita per cercare di giocare, abbiamo preso gol nel secondo gol lo stesso per cercare di impostare e questa è una mentalità che la squadra ha, non si può togliere in una partita. Bisogna riconoscere i meriti del Fiuggi senza problemi. Noi abbiamo fatto delle cose buone, delle cose meno buone e da domani si lavora per migliorare sulle cose che abbiamo fatto male.